Acipe, anonum de manu Petri, e noveris direzione, principis apostolorum direzione tuan erga eclesi enroborari. Acipe, anonum deia onipotentis e santorum apostolum Petri e Pauli, tipi comitimus titum, sante Maria in vie, in nomine Patris e Filia e Espiritus. Acipe, anonum deia onipotentis e santorum apostolum. 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 Acipe, anonum deia onipotentis e santorum apostolum.